eccoci qua signori eccoci qua eccoci qua con il consueto appuntamento in cui parliamo delle ultime di calcio mercato delle ultime principalmente riguardo il possibile prossimo allenatore del napoli fatevi prima salutare o l'ermanito sono g a7 quello che tiene le tette le racchette le lavagnette le rocchette non le manette perché non ho le mitragliette da anche la intro più cringe e meno divertente di tutto youtube italia e benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo un po della situazione chiaramente relativa a con calcio mercato voce di mercato parliamo di conte parliamo di gasperino di tutto ciò di tutto ciò che 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 gira intorno del ruota intorno al calcio napoli un po intorno al calcio generale perché la juventus ha vinto la coppa italia contro l'atalanta di giampiero gasperini facendo una partita alla massimiliano allegri tra l'altro è successo l'impossibile a quanto pare allegri è arrivato alle mani con un giornalista dopo impazzito prima prima del fischio finale quello che abbiamo visto tutti quanti questa cosa del del giornalista sicuramente domani mattina quando uscirà il video voi saprete già qualcosina in più però parliamo di un qualcosa di folle che non deve assolutamente mai e poi mai succedere però parliamo di quello che interessa principalmente a noi come ben sapete su instagram ogni giorno faccio un video faccio una storia in cui dico secondo i giornali quali quali sono i quattro candidati gli allenatori più vicini in questo momento sembra essere abbastanza in questo periodo di due tre giorni perché sapete come funziona il calcio mercato le notizie il ciclo di notizie da che durava magari settimana adesso dura poco poco meno di qualche ora perché tutto può cambiare in un niente in ogni caso sembra essere in questo momento antonio conte sempre più il favorito per la panchina del napoli con gasperini che segue a ruota e più all'italiano un po più dietro quindi sembra essere questa la sembra essere questo il leitmotiv di questo di questo lasso temporale con l'aurelio de laurentis che vuole a tutti i costi antonio conte vuole antonio conte non ha le sue condizioni però ha delle condizioni che lui possa in un certo senso accettare conte vuole il napoli ma lo vuole senza diciamo dover scendere troppo a compromessi perché in questo momento l'offerta del napoli si aggira sui sei milioni e mezzo più bonus che poi arriverebbero circa a nove milioni di euro invece conte vorrebbe che il napoli arrivasse con la base fissa più vicino alla sua richiesta che quella vicina a nove milioni di euro conte già ritiene a quanto pare di aver fatto un prezzo amico ad aurelio de laurentis con cui c'è un ottimo rapporto conte chiaramente si porterebbe dietro uno staff importante con i vari stellini bisogna vedere ferrara con il suo match analyst il preparatore atletico da quello che da quello che circola da quello che si dice potrebbe essere sempre francesco sinatti ma in ogni caso ragazzi sta succedendo stanno succedendo tante cose perché c'è chi dice che addirittura sono ore decisive giorni decisivi io se conosco un poco il napoli se conosco un poco a relo de laurentis l'allenatore sarà annunciato dopo l'ultima giornata di campionato magari due tre giorni dopo così fu con con spalletti che poi esonerò esonerò gattuso in maniera in maniera amichevole per poi annunciare qualche giorno dopo il sabato se non se non ricordo male luciano spalletti perché ricordo proprio che era praticamente tutto fatto tutto definitivo tutto definito il il venerdì poi si aspettò perché comunque di venerdì di mar attento con la situazione la sappiamo che della laurentis è uno abbastanza abbastanza scaramantico in ogni caso è una situazione è una situazione particolare perché il napoli vuole conte gasperini sappiamo che è concentrato su altre situazioni vero finale d'europa league comunque concludere bene il campionato anche la partita di recupero del campionato in questo momento la fare anche un lavoro psicologico sui ragazzi dopo la sconfitta in coppa italia l'ennesima sconfitta era una finale che sicuramente avrà un qualcosa diciamo un riscontro psicologico non non decisamente non necessariamente positivo però la situazione relativa a conte perché oggi ha parlato di marzio ha parlato pedullà mandando più di qualche frecciatina a carlo alvino ha parlato repubblica repubblica dice il mister ha suggerito addirittura due nomi l'adl che a quanto pare sono quelli di gudmunson e luisa alberto sono sono tante notizie quello che dice di marzio che al momento adesso vi prendo subito la notizia in sé quello che dice di marzio che al momento si lavora si lavora ma non c'è ancora un accordo economico al cento per cento adesso lo trovo ma perché perché ci stanno delle cose del 2021 ma che significa non capisco vabbè ragazzi facciamo facciamo da qui che facciamo decisamente molto prima uno vuole fare le cose sensate dal computer impossibile impossibile bisogna bisogna andare bisogna andare dal telefono perché come se non fossimo già abbastanza dipendenti dai nostri cellulari allora napoli le prime due scelte per la panchina restano casperini e conte poi a seguire pioli e italiano con l'ex tottenham prosegue la trattativa economica ma ancora non si è trovato un punto d'incontro è un po quello che si è detto negli ultimi giorni che si sta cercando quel punto che poi possa accontentare decisamente sia il napoli che antonio conte con tutte le fonti più vicine al milan che dicono che ci sono stati assolutamente zero contatti con conte con la maggior parte dei dei club all'estero che a quanto pare non hanno contattato antonio conte a quanto pare dei laurenti sta facendo anche leva su questa situazione che non ci siano tantissime richieste da parte di club per il tecnico per il tecnico leccese che mi sembra comunque strano mi sembra abbastanza strano infatti tutto questo mi puzza di una grandissima giocata alla camesso rodriguez alla gabrivega e tutto il resto appresso adesso vi leggo quello che dice di marzio prosegue il casting per la panchina del napoli della vorenti scalzona lascerà infatti gli azzurri a fine stagione e lì se c'è diversi allenatori in prima fila rimangono conte gasperini a seguire stefano pioli e vincenzo italiano con l'ex allenatore del tottenham prosegue la trattativa economica ma non si è ancora trovato un punto d'incontro gasperini invece si aspetta di capire in pochi giorni che margini ci saranno per una sua partenza da bergamo per me alla fine gasperini rimarrà ancora una volta a bergamo in particolar modo se non dovesse vincere nessun trofeo la scelta finale spetterà il tecnico nell'azzurro visto che gli azzurri non c'è una bozza di accordo quindi già c'è a quanto pare una bozza d'accordo con giampiero gasperini con l'adalante invece c'è stato un primo incontro del rinnovo nel quale sono state chieste determinate garanzie al di là della parte economica per quanto riguarda pioli ed elano invece la situazione è stand by se il napoli vorrà a puntare su uno di due potrà cercare la trattativa e poi questo che merita un video a parte gli azzurri si stanno anche muovendo per Samu Omo Rodion dell'Atletico Madrid possibile sostituto di Victor Rosimane giocatore molto interessante che a me piace che a me piace poi il discorso sostituto di Rosimane sarà un discorso molto ampio molto difficile che dipenderà moltissimo da chi sarà il prossimo tecnico del Napoli potrebbe essere un calciatore adatto allo stile di gioco di Antonio Conte però c'è da vedere ragazzi c'è veramente tantissimo da vedere da quello che comunque dicono le fonti più autorevoli ovvero di Marzi e Petrullà il Napoli sta puntando tanto su Antonio Conte nel momento in cui volesse chiudere per uno trappioli italiano a quanto pare può farlo in qualsiasi momento in questo momento sta tirando la corda speriamo non troppo per Conte sperando di poter chiudere il prima possibile a quanto pare sono ore decisive il giorno sono decisive tante che mi sono dimenticato di dire il Napoli ha fatto un sondaggio anche per Daniele Rugani ho sentito tanti lamentarsi Daniele Rugani che ce ne facciamo di Daniele Rugani ragazzi in questo momento Daniele Rugani a Napoli è presidente, imperatore, zar e fa letteralmente ciò che vuole quando vuole in qualsiasi momento anche da titolare prenderlo da terzo o quarto secondo me sarebbe ottimo quest'anno qua fosse pure titolare per me Rugani tra l'altro colpo Contiano detto ciò ragazzi mi raccomando fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale in descrizione dovrete Facebook Instagram, Twitter tutto quello che volete sarà lì giù troverete anche G7Short sia il mio canale con i commenti iconici momenti divertenti del canale TikTok preferiti noi ci vediamo la prossima volta sempre e comunque tutta la vita Forza Napoli